Come è successo? Si è molto avvalso della capacità di attaccare il sistema dei partiti in difficoltà, sconvolto dagli scandali. Questo certamente congela il governo Monti ma di sicuro non lo rafforza. Gli sconfitti di queste elezioni sono il PDL e la Lega che in questo momento devono soprattutto lottare per la sopravvivenza. Gli effetti sul governo probabilmente non saranno importanti. Monti dovrà un po' raccordarsi con la maggioranza e con il PDL ma difficilmente Berlusconi potrà andare alle elezioni a ottobre determinando la crisi di governo. Il successo vero lo ha avuto Grillo. Il voto di protesta che ha rubato voti anche alla Lega e al PDL ma che difficilmente si trasformerà in un partito capace di governare il paese. Grazie.